Allora la prima cosa che facciamo quando andiamo da un nuovo cliente è sicuramente quella di parlare con lui per conoscere un po' la storia, la quotidianità della sua attività. E poi la cosa che viene fatta subito dopo è quella di parlare con le persone intorno a lui, cioè con i suoi collaboratori. Perché spesso la soluzione, le soluzioni noi consulenti le troviamo parlando con i collaboratori. Di quello che tanto a noi non verrebbe mai detto e perché purtroppo il proprietario di un'attività spesso e volentieri è viziato dalla formazione che ha avuto, dai suoi pensieri e tende anche inconsciamente quando parla con te un po' a difendere quella cosa e quindi magari ti omette alcune cose. E invece spesso e volentieri le soluzioni ce le abbiamo lì a portata di mano e capita spesso magari alla fine di un lavoro che magari viene il cliente e ti dice ma come ti è venuta in mente questa cosa? Ti dice ho parlato con lui. Fagli capire che spesso e volentieri la soluzione ce l'hai già in casa. Quindi saper accettare le critiche di chi ti lavora vicino è fondamentale. Accettare le critiche da chiunque è fondamentale, sia costruttivo o no. Però se tu hai un collaboratore che vive con te la quotidianità del tuo esercizio e si sente libero di dirti secondo me qui stiamo sbagliando, secondo me dovremmo fare così, si sente libero di potertelo dire? È fondamentale perché spesso e volentieri tu non ti accorgi. E questo succede quando soprattutto hai delle varie zone di competenza diverse. Io sto in cucina, parliamo di un pizza al taglio, la pala, pinza o quello che vogliamo. Prodotti da esposizione, noi non ci accorgiamo delle facce che fa il cliente, del commento del cliente. Sicuramente, di quanto tempo quel prodotto sta lì o non ci sta, quanta gente ti chiede quella cosa. E se la persona, i ragazzi, i ragazzi che ho al banco in quel caso, io non li ascolto mai, che hanno un problema nel venirmi a dire le cose, perché magari io sono particolarmente protettivo per il prodotto che realizzo, è un problemone. Perché non saprò mai la verità, creerò una mia verità, ma oggettivamente non avrò mai la verità. Quindi penso che per un consulente parlare con le persone intorno al nostro cliente sia fondamentale.